La Tonnara di Scopello è una delle più importanti e antiche di tutta la Sicilia. Fu edificata non prima del 1200 e notevolmente ampliata dalla famiglia San Clemente nel corso del 1400 e 1500. Passò quindi alla Compagnia di Gesù e infine alla famiglia Florio. Si trova nel territorio di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, in Sicilia appunto, nei pressi dei faraglioni di Scopello. Sulle rocce sopra la Tonnara sono visibili due torri, una del 1200, della quale rimangono solo le rovine facente parte del complesso della Tonnara, e la seconda, del 1400, che però non ricade nel territorio di pertinenza della Tonnara. L'epoca di costruzione del primo nucleo e della torre situata sugli scogli non dovrebbe essere, come ho detto, anteriore al 1200, risultando evidente questa datazione dall'esame di alcune tecniche costruttive tipiche di quell'epoca, ad esempio quella adottata nella volta a piccoli conci, che ricopre uno degli ambienti del marfaraggio o nelle murature della stessa torre. Il nucleo più antico si individua facilmente nel corpo di fabbrica che sta addossato alla roccia, sulla quale si eleva la detta torre di guardia. Queste prime strutture furono costruite dal Demanio Reggio e la torre serviva sia alla difesa della Tonnara sia alla difesa del territorio di Scopello. Inoltre, ancora ai fini della datazione, all'epoca dei Normanni in Sicilia, Idrisi, che era un geografo arabo alla corte di Ruggero II di Sicilia, che descrisse la Sicilia verso la seconda metà del 1100, non fa particolare menzione di Scopello e questo fatto ci induce a ritenere che dovesse a quel tempo essere poco popolato o abitato soltanto stagionalmente per l'esercizio di una piccola Tonnara, appunto. Il territorio dove sorgeva il malfaraggio o marfaraggio, vocabolo di indubbia origine araba, ossia il fabbricato per la ciurma e per il deposito della Tonnara, che aveva iniziato l'attività nel 1200, apparteneva al Demanio di Monte San Giuliano. Rimase quindi proprietà demaniale fino al 1400. Nel 1442 fu poi concesso, infatti, dal procuratore generale di Alfonso V d'Aragona, Gisberto de Sfar, a Simone Vannina per 40 onze, con la clausola della restituzione presso il notaio palermitano Pino de Ferri, alla cui morte passò poi alla figlia Bartolomea, che la portò per matrimonio a Giovanni San Clemente, il quale, impiegandovi parte del suo matrimonio, volendola rendere più efficiente, ne ottenne concessione perpetua con la facoltà di ampliarla da parte di Lope III Ximenez de Urrea i de Bardaixi, vicere di Sicilia di allora, con privilegio del 28 marzo 1468. E solo a partire da questa data, quindi, si può parlare di una Tonnara vera e propria. A Giovanni San Clemente successe il figlio, Simone San Clemente, barone di Inici, che ebbe la conferma della stessa successione con privilegio dato a Toledo nel 1502. Il barone Simone San Clemente ebbe a succederli figli e nipoti che via via si divisero la proprietà, fino a che, per mancanza di discendenza, per testamento, nel 1597 vennero assegnati due terzi della Tonnara al collegio dei Gesuiti e un terzo al monastero della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario, sotto il titolo di Sant'Andrea di Trapani. Poi, quando nel 1767 fu soppressa in Sicilia la compagnia di Gesù da Ferdinando III di Borbone, su sollecitazione del segretario di Stato Bernardo Tanucci, la loro quota della Tonnara ridivenne possedimento demaneale e fu in seguito acquistata con la somma di 20.000 scudi da Baldassare Naselli, principe d'Aragona. Nel 1805, tuttavia, i Gesuiti ritornati in Sicilia riuscirono a rientrare in possesso della loro quota, fino a che, per decreto di Giuseppe Garibaldi, nel 1860, la compagnia di Gesù non venne nuovamente sciolta e tutti i beni e le proprietà della compagnia tornarono quindi a far parte del demanio del nuovo Stato Unitario. E lo stesso fu nel 1866 per la quota del monastero trapanese. Infine fu messa all'asta nel 1874 dall'Intendenza di Finanza di Trapani e acquisita per conto di otto comproprietari, con i due ottavi della Tonnara alla famiglia Florio, di cui gli eredi ne sono ancora oggi i proprietari. Di grande importanza economica per gli abitanti del luogo, la Tonnara è stata attiva fino ai primi decenni della seconda metà del 1900.